Signori siamo nella merda più di prima perché a quanto pare la serie tv di God of War che era prevista su Amazon Prime Video è stata saltata Ma prima vi ricordo come al solito di seguirmi su tutti i canali social, link in descrizione per sapere cosa fare E' inutile che ve lo spiego ogni volta ogni video a cliccare il link in descrizione per usufruire dell'80% di sconto Perché tanto sto ripetendo sempre la stessa cosa e voi lo state facendo in pochi, dovete farlo tutti Non uno sì, uno no, tutti lo doveva, è chiaro? Signori parliamo di queste news molto tristi Ora vi andrò a leggere purtroppo quelle che sono le news ufficiali per quanto riguarda la serie tv La serie tv live action di God of War su Prime sta ricominciando, ovvero sta riniziando Non è stato cancellato ma è stato rifatto da capo, ecco Lo showrun e produttore esecutivo Rafe Judkins ha lasciato purtroppo il progetto Si è andato dopo aver completato diversi copioni Lo studio vuole una direzione per lo spettacolo e le sceneggiature sono state eloggiate da Sony e Prime Allora, a quanto pare questi copioni in cui c'erano le battute dei personaggi come era scritto la sceneggiatura eccetera Erano pronte ma sto coglione di merda appunto si è ritirato indietro, non si sa com'è, vabbè Però a quanto pare Sony ha elogiato e Prime, Amazon, hanno elogiato il progetto Ora, secondo me c'è stato un po' di confusione perché non sapevano effettivamente come proseguire in questa serie tv Non sapevano in che stile portarlo, non sapevano se fallo animato oppure meno Diciamo che c'erano un po' dei dubbi a riguardo Però nell'ipotetico caso in cui dovessero fare un live action o animato o proprio live action in vita vera Vorrei che fosse strutturato così Durante il periodo in cui Kratos sta nella mitologia norrena Quindi prendiamo God of War del 2018 Vorrei che di tanto in tanto, durante questo percorso Gli venissero in mente a Kratos dei flashback Non che God of War inizia proprio dalla saga greca e poi va a finire nella saga norrena Vorrei che proprio iniziasse dalla saga norrena E poi ogni tanto, qualche volta, che ne so, in qualche episodio eccetera Venisse in mente a Kratos dei flashback Su come ha affrontato Zeus, su come ha risolto degli enigmi eccetera Mi piacerebbe questo stile qua, capito? Perché se dovessero fare questo live action in God of War Vorrei che si concentrasse di più su quegli ultimi che sono usciti, ok? Quindi non voglio che ripercorra tutta la storia perché la sappiamo tutta a memoria Quindi diciamo che vorrei un po' in questo stile qui Ora il progetto è riniziato da capo Non sappiamo chi saranno gli attori perché a questo punto hanno cambiato palesemente tutto Non sappiamo niente di come verrà strutturato Hanno ricominciato da capo E ora purtroppo dovremmo aspettare alcune nuove notizie Però intanto se volete vedere qualche cosa di Kratos Aspettate a dicembre perché esce Secret Level E in questi episodi compare Kratos E in questo momento